Ciao e bentornati nel canale. Il video di oggi è il primo di una serie in cui parleremo di alcune famose bugie sul denaro a cui non devi dare retta. Perché oltre ad essere bugie, sono idee controproducenti che non ti porteranno da nessuna parte. Ma prima, se sei nuovo qui, io sono Viola e ogni sabato parlo di temi di economia, finanza, risparmio e investimento. Se l'idea ti piace, iscriviti al canale, così da supportare me e il mio team. E adesso torniamo al tema di oggi. Per prima cosa faccio un piccolo disclaimer, che è sempre necessario per cercare di limitare la possibilità di essere contradditti. Quello che dirò in questo video rappresenta la mia opinione personale. Non si tratta di verità assolute o leggi cosmiche, e c'è sempre la possibilità che un giorno io cambi idea. Detto questo, procediamo con la prima di una lunga serie di bugie. I soldi non comprano la felicità. Bene, cominciamo con la bugia più grossa, il famoso detto secondo cui il denaro non ti rende felice. Non è facile contraddire questa sorta di proverbio senza sembrare dei materialisti incalliti sempre alla ricerca di un nuovo verdone da mettere nel portafogli. Anche se in realtà oggi più che altro si cerca di catturare bitcoin, neanche fossero pokemon. Ma comunque. C'è qualcosa che non mi piace in questa frase. A dire il vero, non mi piace il modo in cui è formulata. Perché è chiaro a tutti che non è possibile andare al supermercato, prendere dallo scaffale un chilo di felicità e poi acquistarlo alla cassa con una banconota o con la carta. Quindi è chiaro, anzi direi ovvio, che con i soldi non compri la felicità. Ma allora se è ovvio, e già lo sapevamo, qual è il senso di questa frase? Dove va a parare? Secondo me questo, diciamo, proverbio è una bugia e viene usata troppo spesso da persone che desiderano in qualche modo denigrare chi ricerca un benessere economico in maniera molto determinata ed evidente. E magari, diciamolo, anche per giustificare inconsciamente la propria pigrizia o incapacità nel perseguire anch'essi degli obiettivi dello stesso tipo. Alle volte, infatti, secondo me, rischiamo di appigliarci a delle massime o presunte regole su come funziona il mondo o su come ci si dovrebbe comportare, che ci fanno sentire bene perché ridimensionano ai nostri occhi gli obiettivi raggiunti dagli altri. Hai guadagnato tanti soldi? Beh, questo comunque non cambia il fatto che la tua tipa ti ha lasciato. Sei ricco? Tanto rimani comunque solo come un cane. Ma perché dico che questa è una bugia? Beh, perché se ti dicessi di guardare nel profondo del tuo cuore e ti chiedessi se preferiresti piangere per il tuo recente divorzio a bordo di una Ferrari o di una Panda? Credo che sapremo entrambi la risposta sincera. E la cosa sconvolgente è che non c'è niente di male nel dire che preferiresti la Ferrari. Associamo al forte desiderio del denaro qualcosa di immorale e pensiamo che le persone ricche siano solamente materialiste e molto spesso anche cattive, perché disoneste nel modo in cui hanno raggiunto quel loro livello di benessere. Ma sto già anticipando quello che dirò nei prossimi video dedicati alle bugie sul denaro. Per restare al tema di oggi, il denaro non compra direttamente la felicità, lo sappiamo. Ma è innegabile che renda la vita più serena, più agiata e nei casi disperati più facile da mandare giù. E questo non lo penso solo io. Secondo un famoso studio condotto dal premio Nobel Angus Deaton, il livello generale di felicità approvato dalle persone in effetti mostra una correlazione positiva con il reddito, nel senso che ad un aumento del reddito corrisponde un aumento del benessere emotivo. Questa correlazione sembra però avvenire meno una volta che il reddito cresce oltre i 75 mila dollari all'anno, suggerendo che questa sia una specie di soglia oltre la quale ad ulteriore ricchezza non corrisponde ulteriore felicità percepita. E questo è comprensibile. Se hai già 20 telefoni, 37 computer e 16 macchine, con molta probabilità una unità in più di ciascuno non ti sconvolgerà la vita. Eppure, uno studio più recente, pubblicato nel 2021 da Matthew Killingsworth, conferma la correlazione tra reddito e felicità, ma conclude che questa correlazione continua anche oltre la famosa soglia dei 75 mila dollari. Ora, ricordiamoci che la correlazione non implica necessariamente la causalità, nel senso che non è detto che l'aumento del reddito produce un aumento della felicità. Resta comunque il fatto che i risultati di queste ricerche sono solidi, e con ogni probabilità ci si sente davvero un po' meglio a piangere in una Ferrari che in una Panda. Su questo argomento si potrebbero scrivere interi libri, perché le opinioni possono essere tantissime e non necessariamente inconciliabili. E infatti io sono molto curiosa di sapere come la pensi tu. Hai mai riflettuto in questi termini sul significato di questo proverbio? Lo ritieni anche tu una bugia? Come l'ho definita io in questo video? Fammelo sapere nei commenti e se questo video ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo il prossimo sabato. Ciao ciao!